nella grande fattoria iaia o quante mucche ziotopia iaia o un muni qua e un muni là questo animale è una mucca podolica tra poco verrà muta è la femmina del toro è una mucca podolica abruccisa è utile per il latte una mucca a differenza di un essere umano ruminante a quattro stomaci ma è sempre un'articolazione della famiglia dei bovini come il bisonte che questo è un falso bisonte e inoltre nel che ho portato il richiamo per la per la volta e per la lodola e anche richiamo per il servo nella vanigia il vostro parettere il vostro lontano parente mucche